Salve a tutti ragazzi bentornati su Break2Play e eccoci nuovo qui con Far Cry 4 Oggi stiamo per fare una delle missioni della storia principale Era un po' che avevo abbandonato questa storia principale Perché non mi ero accordo che in realtà la missione fosse quel simbolo là E adesso stiamo iniziando Siamo qui al monastero e vediamo un pochino che missione ci troviamo davanti Bello, ha detto anche che l'Opio alla vecchia fabbrica è pronto a partire Dobbiamo distruggere quel veleno Distruggere? Stai scherzando? Dobbiamo prenderci il carico e anche i campi Amita ne abbiamo parlato Trasformare il Kirat con la droga non è la risposta Zabba, lo sai che non abbiamo più risorse naturali Che faremo una volta liberi? Le miniere sono esaurite e i campi sono abbandonati da anni Che libertà attende il nostro popolo? Non siamo così, siamo diversi Se lo fai sei proprio come Pagan Ma è moralmente scorretto Meglio che morire di correttezza Ok, quindi eccoci qui con una seconda scelta La prima volta abbiamo appoggiato Amita E questo ha portato alla morte di alcuni soldati Sabal Infatti Sabal era un po' incazzato con noi Noi prendiamo i rifornimenti che ci servono Principalmente il kit di pronto soccorso E la corazza Ok, per il resto dovremmo avere tutto al massimo Quindi parliamo con Sabal E questa volta appoggiamo lui e andremo a distruggere la droga Quindi parliamo con lui Ci sto È bello averti con noi Mohan non ha fondato il sentiero d'oro per spacciare droga Amita Lei È pazza Vai alla vecchia fabbrica e brucia tutto Ok, quindi dobbiamo proprio bruciare ogni cosa La vecchia fabbrica di Oppio Dunque fuoco e fiamme Vogliamo accettare la missione Perfetto Raggiungiamo la fabbrica Allora, in questo momento abbiamo accettato quindi una missione di Amita e una di Sabal La fabbrica si trova a dunque Dove? Dove è? Lontana? 1192 metri? Ok, molto lontana Dietro Ah, ok, eccola qui Eccola qui Quindi andremo a fare un trasporto rapido Penso da queste parti Sì, e poi andremo a raggiungerla O forse qui Qui ci conviene Ok, eccoci in questo accampamento Allora ragazzi Per far vedere Ho liberato tutti gli accampamenti Nella parte che abbiamo sbloccato Diciamo Quindi quella oltre il passo Non l'ho minimamente toccata E ho fatto anche diverse missioni secondarie Ho raccolto diversi bauli E roba del genere Quindi comunque tutta roba secondaria Per adesso Non ho sbloccato un gran key di abilità Ho sbloccato un paio di abbattimenti Ovvero abbattimento da veicolo Quindi possiamo uccidere direttamente Il guidatore di un veicolo E il suo passeggero E anche abbattimento da riparo Che è molto utile Ovvero quando siamo accucciati Dietro a un riparo Possiamo andare A abbattere Un nemico Silenziosamente Ok, andiamo a raggiungere Quindi quella posizione Impostiamo come bersaglio La fabbrica Ci fa fare il giro Non inseguendo No, però intanto abbiamo Un altro fucile a pompa Qui che si diverte E' pieno di gente Ma che è? Ok ragazzi Abbiamo un esercito dietro Sarrebbe anche il caso di Dai Basta Guardate come lo teniamo A gangster Fucile Dunque Andiamo avanti La fabbrica è corolla La iniziamo a intravedere Potremmo anche Fermarci da queste parti Ok Sì infatti siamo già Sul limite Dell'area Della missione Quindi scendiamo E andiamo Con il nostro mitra Ad avanzare Molta cautela Qui abbiamo una postazione armata Potrebbe fare comodo Ma non mi sembra di vedere nessuno Per adesso Distrugge la piantagione Ok Allora Ci sono 4 obiettivi Un 2, 3, 4 Probabilmente sono i campi O gli edifici Che vengono utilizzati Per questa piantagione Andiamo a Marchiare Tutti i nostri avversari Visibili Abbiamo Un cane Sì sei un cane Qui non vediamo niente C'è stato un attimo Di Tutto verde Ok 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 quindi Questa via è l'origine Dei Della maggior parte La ricchezza Di Pagan Min Quello cosa diavolo Dovrebbe essere Forse è tipo Un generatore Non lo so No forse è un coso Per alzare il cavo Che porta lì Non lo so Dunque Non vediamo molto Però possiamo anche Perseguire Il faticolo Ah no Ok Sistema di irrigazione Distruggi i generatori Per impedire che si attivino Ok Quindi dobbiamo distruggere i generatori Penso sarà il nostro Primissimo obiettivo Abbiamo taggato un sacco di gente Abbiamo anche uno laggiù Ok Inizierei Dal Signorino Dunque Qui sopra abbiamo Un'ulteriore postazione Rialzata Che potrebbe convenire Utilizzare Ok Da qui Come Wow Fantastico Allora Andiamo a puntare Il nostro cecchino Là E vediamo Di Fare un headshot Ok Iniziamo con lui Andiamo a spostarci Di qua Andiamo a puntare A lui Fare Un secondo headshot Perfetto Andiamo a puntare A lui Ah Nazione Non l'abbiamo ucciso Ok Stiamo attenti Perché potrebbero Sicuramente Avranno dei Rifornimenti Sì Dei rifornimenti Di rinforzi Pronti All'arrivo Da queste parti Allora Lui Ok Vediamo Se qualcuno Si sta avvicinando In maniera pericolosa Quello va Alla mitragliatrice Che è Ah no È un mortaio Ok Vediamo Ok Bombarda Si bombardano da sole Fondamentalmente Lui Non sta cagando Nessuno Uccidiamolo Ok Il cane laggiù Mi dispiace Ma È un nemico Alquanto rognoso Da gestire Quindi Attenzione Che Non vogliamo Essere scoperti Se non quando Obbligatorio Praticamente Perché Stanno scorrazzando In su In giù Questi altri Da queste parti Cosa stanno facendo Vediamo se abbiamo Una visuale Su qualcuno Abbiamo la visuale Su quello Che non avevamo Taggato prima E Ahia Ok Ok Mi sa che ci hanno visto Ragazzi No Ok Adesso sì Adesso sì Direi Abbiamo solo 4 molotov Ragazzi E ci servono Quindi Non utilizziamo Le molotov Prendiamo Il nostro Fidato Mitra E Vediamo Ahia Chi cazzo è Che ci spara da lì Quello È lui Ok Dai Che l'avevo preso Come sia Tipico Si Quanto lo so Che puoi venire qua Mi s'aspetto Qui Ok Giù per terra Quello Quello Si sta nascondendo Quello Sta andando Lì E Dai T'ho preso Un braccio Non spari più Vaffanculo Ok Headshot Per te Qui siete In diversi Uno sta andando là Quindi Quindi Probabilmente Sta per raggiungere Il morta Dai Si è abbassato All'ultimo istante Ok Faffanculo Facciamo una cosa Spostiamoci Andiamo ad interrompere La linea visiva Probabilmente Ci hanno già Bello rivisto Esattamente Dai Il sasso Viene stronzo Eccoci Ora questo Ci prende preciso Il mortaio Campi bruciati Uno su quattro A quanto pare Ragazzi Realmente Con il mortaio Ok Ucciso lui Se cambiamo Velocemente Posizione Gli impediamo Di sapere Da dove Spareremo Il prossimo colpo Però dovremo Teoricamente Utilizzare Una vera tattica Usare un cecchino Ovvero Un colpo Spostarsi Un colpo Spostarsi C'è anche lui Ok Stanno andando tutti Da quella parte lì Perché sono convinti Che siamo lì Quindi Ops Usiamo Una delle tre siringhe Che abbiamo E vediamo Di spostarci Qua Attenzione Possiamo Vedere di Taggare anche lui Ok Stiamo attenti Soprattutto ai cani Ragazzi Allora C'è anche un altro Non taggato Ah Un altro lì Dannazione Siamo riusciti A prenderlo Ok Continuiamo Il nostro lavoro Da cecchini Abbiamo solo Dieci colpi E Se ci impegniamo Potremo anche Riuscire a liberare tutto Perché comunque Non sono rimasti Troppi nemici Insomma Pensavo di meno Vediamo Di colpire Tipo lui Ok Stanno venendo Tutti di qua Adesso Forse potremmo Iniziare A utilizzare Anche Le granate Ok Uno Ucciso Quei due Ce l'hanno visto No ma Ok Uno Eh Dannazione Ma eravate accanto Anche l'altro Poteva morire Oh cazzo Ok Via quello Dal mortaio E Ok Ah Vaffanculo Avessi visto Prima Quei Bra Mori Ehm Siete finiti No Un cazzo Chi c'è là Il cane Sì sì Abbaia Abbaia Oh Ehm Lui Lui Che se ne sta Lì dietro Ok Ma Mi sa che siamo Abbastanza tranquilli Adesso Perché No Ma perché Fai queste cose Ho detto Però cadute Prima Io ti odio Ti odio Ai 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 Galla Quanto sei Retino Va bene Ci riproviamo A fare tutto Dal capo Ok Eccoci qui Quindi a questa Piantagione Ragazzi Ho fatto un tentativo Ma non è andato Proprio Come sperato Quindi vediamo di farlo Non è andato Come sperato Cioè non è vero Andava benissimo Praticamente abbiamo ucciso tutti Tranne uno E per raggiungere quello lì Ho deciso di usare la totalare Solo che il nostro amico Ajaigal Non è proprio il massimo Della Leggiadria Quindi Mai usare la totalare Se non strettamente necessario Ok Allora Vediamo di uccidere tutti C'è diversa gente In questo In questa piantagione E la cosa più rognosa E più noiosa È assolutamente Il mortaio Dunque Cane Quello è un cane Lo riconosco da qui Che è un cane Ok Guardiamo Qui sotto Ci dovrebbero essere Diversi ragazzuoli Che chiacchierano No Forse qualcosa Delle cose Che abbiamo fatto Nello scorso tentativo Sono Già contate Come fatte Ok Ci dovrebbe essere uno No Ok La posizione La posizione degli uomini Non è proprio La stessa di prima Però il numero Più o meno Mi pare quello Quindi Bene così Allora I campi doppio Hanno dei sistemi In rigazione Che possono naturalmente Spengere gli incendi Quindi dobbiamo Appunto Prenderci cura Di questi sistemi In rigazione Prima Di dare fuoco A tutto I campi Penso che siano Quei 4 lì Ci ne è già uno bruciato Quindi penso Si che In pratica Una parte Delle cose Che abbiamo fatto Prima Vengano considerate Già fatte Anche adesso Iniziamo A liberarci Del nemico Più Noioso Alla lunga distanza Ovvero Quel cerchino Lì Che Direi No Dai L'avevo preso Dove sei Rognoso Gioco Quando ti ci metti Dunque Vediamo se Hai visto Hai visto che non c'è più Ok Quindi Abbiamo buttato Sul cecchino Però Hanno già iniziato A bombardarci Questo non è un bene Uscire dalla zona Della missione Sto un po' di uscire Della missione Voglio solo Allontanarmi Dalla zona In cui ero prima Perché come vedete Non è proprio una zona User friendly Diciamo Dunque Fabbrica di tiratea Eh C'erro anche prima Ok Quello si è allevato di culo Dal mortaio Vediamo se si fermi Da qualche parte No Probabilmente hanno deciso No Se ne è andato Non c'è nessuno Questo per noi Dai Ok E' andato nel mortaio Vediamo se Lo freghiamo Prima che arrivi Al mortaio Non penso Che nessuno Riesca a vederci Qui Chi va al mortaio? Te? Ok Via lui Eccolo lì Quello che va al mortaio Cerchiamo di Ah no E' quello accanto Oh merda Ci hanno visto Quindi stanno Per spararci In capo Appunto Ah Ok Proprio accanto Via Ok Fuggiamo 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 Interrompiamo La linea visiva Così Così dovremo Avere un po' Più di tempo Per ragionare Sulle nostre scelte Tattiche Passiamoci Ok Ottima postazione Come se Abbiamo Un ulteriore Ah Dannazione Dunque 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 Lui potrebbe essere Il nostro prossimo Dai Ma Giochino di merda Merda Ok Allora iniziamo il giro Ci stiamo tirando Il mortale In testa Quindi Non è proprio il caso Di fare i furbi Merda Sono qui accanto Ok 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 Speriamo che ritirino Nel stesso punto O che non tirino Più direttamente Sarebbe anche rotto i coglioni Il mortaio Ok Un altro In meno Dai Cos'è Se li prendi in corsa Non muoiono subito C'è L'adrenalina Che li pompa No ok Dobbiamo quindi Ragazzi Velocemente Liberare tutto Anche perché Non so quanti colpi abbiamo Ancora 20 colpi Vabbè Non sono pochissimi Però Considerate che non abbiamo Ucciso troppa gente E non so quanta Esatto Staggata Ce n'è Quindi Dobbiamo stare attenti Soprattutto a quelli Che ci siamo Dimenticati taggare Per ovvi motivi Magari per Proprio impossibilità Di vederli E roba del genere Tipo lui Non vi vedo altri Ok Facciamo una cosa Voglio buttare su il camion Ok Quello via No ma nel colon Alcuno deve insegnare Anatomia ai programmatori Della Ubisoft Se ti sparano nel collo Muori Lo posso assicurare Non dico per esperienza Non è una cosa Che si impara Per esperienza Il camion deve bruciare Attenzione Che ci veden Chi ci vede In cui mi sa che sanno Più o meno La nostra posizione Ragazzi Questo non è bene Eccolo che arriva L'amico Fritz Viene l'amico Fritz Ok Perfetto Io direi ragazzi Di passare A una cosa più action Perché Dai Maledetto cane Ma Si si Sono felice Però Andiamo a colpire Per il camion Anche questo Tanto di granate Ne abbiamo ancora 10 Muori No eh Va bene Ragazzi Vediamo Di divertirci Un pochino Con il mitra Ok Ok Giù lui Cane sta lì A baiare Da solo Niente più cane A baiare da solo Ah un altro cane Salve cane Basta cane Ok Ehm Ne mancano due Ne mancano seriamente due O ci siamo diventati Taggare qualcuno Non lo so Ci sta che ne mancano seriamente due Uno Dicevo Vediamo di uscire anche questo signor Rottweiler qui Ok E poi Occupiamoci del signorino Che Ha deciso Se forse è il caso Di varsi di culo Ok Dovremmo esserci Dovremmo esserci Comunque nel dubbio Prendiamoci Il nostro Mitragliatore Il nostro fucile D'assalto E scendiamo Di qui Un bel scivolone Ok E scendiamo di qua Allora Dobbiamo anche Pensare Generatori Non lo so Non lo so Se i generatori Effettivamente Distruggi il generatore Per spegnerlo Ah no Dobbiamo Questo penso Voglia dire Che è Attivo Ah ok Probabilmente c'è il discorso Che con i soldati lì I campi ovviamente Vengono spenti Però Mi sembra di sentire Delle voci A dire la verità Però vabbè Dunque I campi Sono Quella direzione Distrugge il generatore Per spenderlo Definitivamente Attenzione Che prima sono morto Per questa motivazione Perché Ho fatto un salto Del genere Tipo sono morto Allora Il generatore È quello Ah no È questo qua E lo Dovrei distruggere Vabbè Prendiamo il nostro Fucile a pompa Oh Cazzo Ok Mi sa che dobbiamo Proprio distruggerli Come missione Questi generatori Quindi Non so se è oppio Questo Proviamo un po' Non lo so Se ne Vabbè Comunque Fatto sta che Uno è già bruciato Era lì Quindi In caso dovremo avere Abbastanza Roba Da bruciare tutto Comunque Abbiamo anche Qui dei rifornimenti Molto per uno Come vedete Con il tasto Che prenderemo Le munizioni Per tutto Abbiamo anche Una nota Roba del genere Entriamo dentro L'abitazione Che sono curioso Di vedere cosa c'è Comunque No Questo non è Ah no È quello Ok Quindi vediamo Di allontanarti Un attimino E poi Farlo scoppiare Ok Qua dentro Mi sa che ci sono Quei mucchi doppio Che c'era scritto Forse che siano questi No Non sono questi Non sono questi Quest'è una No Eccoli qui Ah Devono essere bruciati Ok Quindi tiriamo Una bella Molotov E leviamoci Di culo Ok Vediamogli Attenzione L'ho visto E qua dietro Ok Uno è giù Sono felice Oh Ricarichiamo Via Si si Ah Attenzione Ce n'è Un altro Anche di qua Ok Il veicolo Si è fermato Lì Tipo Vai Merda Ok Forse Uno l'abbiamo Ucciso Con la granata No Dai lì Dove è l'altro Quelli là Attenzione Un po' Che Quelli Non riesco A capire Se è Un Eh si Ma se Noi tipo Non so Se si sono Tipo Buggati In quella Posizione C'è una Cosa Garanzane Tattica Vediamo Questa Vai un po' Guarda che ti regalo Dove ragazzi C'è Ok Vediamo Di puntare Ai generatori Quindi Tanto non abbiamo Problemi di colpi Con Questo Penso Che i generatori Siano Forse lì Proviamo A fare così Dovremmo Riuscire A distruggere La roba Così No C'è un problema Di messa a fuoco O sbaglio Vediamo Eh ce n'è uno In quella direzione Un'area Ah questa Forse Ok Quindi Buggardiamo Anche lì Ok E poi Dovrebbe essere Definitivamente Ah eccolo C'è una bombola Di Propano E dovremmo Utilizzare quella Per Da saltare Ok Probabilmente Abbiamo distrutto Il campo Un numero Tre Ok Dobbiamo Continuare Quindi a Bruciare Questi Mucchi Ok Che ci sono Nelle Negli edifici Immagino Quindi Tiriamo una Molotov Lì E Di qua C'è qualcosa Oh Già bruciata Interessante Siamo a Sette Su Nove Ce ne Mancano Due Quindi E Non penso Siano Qui Forse Sono Quei Due Ma forse Quei due Sono già Considerati Bruciati Ok Questi Già Bruciati E Ah Eccoli qui Aia Ok Scoppia ogni cosa Mi sa perché C'era una Bombola Non so se Abbiamo un'altra Molotov Ma penso Che ci siamo Faticamente Perché Tenete questa Andiamo di Andiamo Brucia un po' Minimo Sì sì Che scavalca il muro Vai Ok Ci siamo Fuoco e fiamme Missione completata Finalmente Ok Quindi abbiamo Completato questa Missione della Storia principale E Wow 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 Fammi un po' Tutti quanti Siete Ah quello è un pezzo Del mezzo Quindi non scoppia Quello Però probabilmente Dai Mori Dai Dai Vabbè Ragazzi Bene Levarsi di culo Secondo me Perché Non C'è verso Di Far smettere Di arrivare Questi uomini Quindi Saltiamo E usiamo La nostra Fantastica Tutalare Perfetto Quindi abbiamo Completato Questa missione Per Zabal Questa volta Abbiamo appunto Supportato lui E Dopo aver supportato Amita Nella prima missione L'avevamo già visto Attenzione Abbiamo forse Una maschera Di Yalung Da queste parti Vediamo Di scendere In maniera Plastica Sì C'è una maschera Di Yalung E vediamo Di Uscire fuori Intanto E si trova In un'area Molto Ristorante Ah Cazzo Ancora Spottuto Coccodrido Di merda Ok Fuoco e fiamme Ragazzi Quindi Questa è la missione Che abbiamo affrontato Continueremo A affrontare Missioni Della storia principale Praticamente Finchè Non Arriveremo A dover Entrare Nella zona Nord Perché Comunque Abbiamo fatto Tutte le missioni Secondarie Del caso Yalung Is watching Va bene Io cercavo La maschera Di Yalung Che si trova Esattamente Sentiamo Che sia qua dietro No Forse c'è tipo Un buco No Attenzione Sentite Il One 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 Saccheggiamo Lui Ah va Salve 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 Interaggiamo Ok Ancora 4 Per la prossima Ricompensa Ma Non ci interessa Per adesso Comunque Abbiamo Un punto abilità Lo useremo Per sbloccare Magari Un'abilità Se c'è No L'unica Che c'è È il karma Più Ma Non Lasciamo perdere Per adesso Vi parlavo Proprio Del Fatto Di Entrare A nord Perché Ho visto Che tante Mission Tante Abilità Tipo Questa Che dovrebbe Essere Un'abilità Abbastanza Facile Da Apprendere Perché Comunque Ci dovrebbe Dare Una salute Aggiuntiva Fino a un totale 5 Conquista addirittura 6 Dovremmo Completare Una missione Una chiave Per il nord E penso Come anche Per questa Siringa Concentrazione 2 E Quindi appunto Volevo fare Questa missione Questo tipo di missione Andando a vedere Nella mappa Adesso abbiamo Se non sbaglio Non una missione Della storia Principale Ma Di Amita Ok Affunto La missione Principale Per Amita Sarà Ricompensato Con tanti Punti Esperienza Ok Ve lo ricordate Infatti La scorsa Volta Abbiamo appoggiato Prima Amita E poi Abbiamo fatto Una missione Per Sabal Che ci chiedeva In pratica Di liberare Il monastero E quindi In pratica Sarà la stessa Cosa Ogni volta Che sceglieremo Un lato Poi L'altro Lato L'altro Diciamo Pretendente Del potere Ci contatterà E ci farà Fare una missione Per lui Quindi appunto Questa volta Sarà Amita Allora ragazzi Come sempre Se il video vi è piaciuto Mettetemi piace Lasciatemi un commento Ed iscrivetevi al Break2Play Un saluto a tutti Da Nicolas Ci vediamo Nel prossimo video Ciao